La verità è che non ci siamo mai fermati. Proprio quando il tempo sembrava immobile, il pensiero si è mosso in un modo diverso. In quell'istante, è cambiato tutto. Abbiamo scoperto la leggerezza nel momento più duro. Abbiamo costruito qualcosa che fosse solido abbastanza da sostenere quella leggerezza. Quello che sembrava impossibile è diventato raggiungibile. Le idee hanno trovato più spazi, più certezze, più punti d'incontro. Abbiamo trovato il nostro tempo. Chi veloce, chi lento. Un tempo umano. Un tempo nuovo. Un tempo.